ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a vedere come io vado a realizzare i miei braccioli per le montature da volentino in molti voi hanno già visto durante qualche video sulle storie su instagram se non mi seguite vi lascio qui in basso il link per seguirmi anche su social network instagram dove vado a pubblicare le battute di pesca e le mie montature hanno visto questo qui ovvero questo stendi braccioli in tanti hanno chiesto perché c'è un braccioli qui a cosa serve a cosa non serve oggi andremo a realizzare questa tipologia di braccioli perché uso questi braccioli perché semplicemente io sulla mia montatura da volentino non utilizzo girelli non utilizzo tecnosfera ma utilizzo queste girelline con lo sgancio raggio ve le faccio vedere ne esistono davvero di tante tipologie di tante marche sempre qua c'è una della mavela qs ci sono anche della libertini però sono girelli che tengono davvero tanto quindi indipendentemente dalla marca vanno bene ugualmente l'importante siano quelle io utilizzo la misura 22 non 24 ma la 22 e acqua anche mi metto la foto in grande qui sono delle girelle dove abbiamo da una estremità un uncino con un tubicino che si va a chiudere quindi cosa faccio io semplicemente prendo la mia montatura grazie al mio stendi braccioli vado a scegliere c'ho varie lunghezze varie diametri di ami mi scelgo il mio bracciolo in questo caso facciamo finita prendiamo questo questo bracciolo qui dall'altra parte c'ho un'asolina inseriscono l'asolina all'interno del mio uncino questo modo qui e vado a chiudere il tubicino in silicone vado a chiudere ecco qua una volta chiuso questo questo sganciorato utilizzo perché mi trovo davvero molto comodo mi trovo perché se devo cambiare bracciolo semplicemente alzo il connetto di silicone tolgo via il mio bracciolo e può sostituire posso cambiare così facilmente diametri numero di ami lunghezze di braccioli posso cambiare e chiaramente poi vado a sistemare i braccioli con attrattori o non attrattori per quanto riguarda questi braccioli io utilizzo a solo l'ancolata e sull'altra estremità e chiaramente il nostro anno questo mi permette di essere molto veloce di intercambiare i braccioli in maniera molto veloce e poi non ho mai avuto problemi di rottura e più che altro una cosa che ho potuto notare io che avendo i braccioli qui ben stesi e stirati quando vado in pesca il bracciolo si mantiene anche molto meglio quindi passiamo a vedere come vado a realizzare questi braccioli per avere la misura ben precisa e montarli qui metterli qui stesi ben precisi allora innanzitutto ci occorrono prendere i nostri fili come filo sto utilizzando il fluorocarbon inter utilizzo e poi mi sono costruito questa tavoletta qui semplicemente una tavoletta dove ho incollato una striscia di zucchero con delle incisioni ogni tanto ho fatto le incisioni semplicemente per poter incollare ma molti braccioli ma anche le travi di queste non ho 34 perché me ne vado a posizionare dove mi occorrono e riesco a incollare 10 15 terminali o braccioli contemporaneamente quindi ci occorre adesso girelli non ce ne occorrono ci serve il nostro fluorocarbon la nostra forbice e le perdine allora per quanto riguarda le perdine ho tantissime tipologie di perdine chiaramente qui cosa dobbiamo fare dobbiamo semplicemente prendere una perdina dove il nostro filo vada ad entrare all'interno per due volte quindi prendiamo il nostro fluorocarbon lo tagliamo un pochettino prendiamo questa perdina questa perdina entra fino al filo 0 55 e sto utilizzando uno 0 33 quindi vediamo se riusciamo a inserirla due volte la perlina all'interno del nostro filo una volta vedete ho creato un asola con questa perlina qui allora generalmente io ne vado a mettere due perlina ma per priorizzare tutto ne sto mettendo solamente una cosa faccio lo lascio un po più lungo in questa maniera il nostro baffo diciamo lo vado a inserire dentro al taglietto che abbiamo una volta inserito mi vado a calcolare se allora per quanto riguarda adesso la distanza è normale se io devo fare braccioli da 40 centimetri vado a tagliare 50 centimetri vado a tagliare lascio quei 10 centimetri in più che mi serviranno poi per legare il mio amico passiamo avanti prendiamo un'altra perlina ripassiamo il filo all'interno quindi andiamo a ricreare la nostra solina con la nostra perlina e andiamo inserire nella seconda tacchietta andiamo inserire tagliamo a circa 50 centimetri chiaramente se vogliamo io in base poi se voglio velocizzarmi o meno adesso stiamo vedendo un video semplicemente mi vado a calcolare qui ho segnato i 50 centimetri taglio il primo e poi me ne taglio tutti gli altri che chiaramente quando mi metto a fare i braccioli ne vado a fare molti braccioli contemporaneamente così velocizza il tutto tagliamo qui perfetto tagliamo quest'altro cavo a metà e adesso prendiamo il nostro filo prendiamo la nostra perlina possiamo procedere a inserire le perlina adesso ho fatto come potete vedere non so se riuscite a vedere ne ho inserite due all'interno semplicemente quando vado a incollare io non le lascio vicine una all'altra ma le vado a distanziare circa mezzo centimetro adesso comunque vi faccio vedere da più vicino vi faccio vedere allora visto che prima non si è visto stavate un po lontani innanzitutto vi faccio vedere la girella con lo sgancio rapido e questo è il mio filo semplicemente cosa abbiamo fatto fino adesso siamo andati a prendere la mia perlina l'abbiamo inserita all'interno l'abbiamo inserita una e due se vogliamo farlo con due perlina una volta inserita rigiriamo il filo e lo andiamo a rinserire di nuovo dentro la perlina ok in questa maniera una volta fatto questo lo vado a inserire dentro i miei attacchi ora non ci resta altro che una volta sistemato il tutto prendere la nostra colla per quanto riguarda la colla che tanti mi chiedono che colla utilizzo utilizzo o la speed fix che è una delle migliori o se non trovo quella utilizzo la sigel 8003 ne metto una goccia una goccia perlina una volta messa subito una goccia vado con uno stuzzicadenti a muovere la perlina così entra dentro la colla ok una volta fatto il primo passaggio vado a fare il secondo passaggio andiamo a togliere sempre con l'incidenza la colla in eccesso ok perfetto adesso non ci resta altro che attendere che asciughi la colla quindi ora dopo aver aspettato che il nostro bracciolo quindi la nostra asolina sia ben asciutta quindi facciamo una prova come potete vedere regge davvero tanto io utilizzo solo questo metodo e non ho mai riscontrato una rottura dall'asola del mio bracciolo andiamo a togliere l'eccedenza come faccio a fare i braccioli ben precisi alla lunghezza così li posso agganciare e stanno ben tirati allora semplicemente cosa faccio prendo la mia solina la vado a agganciare metto questa parte così riuscite a vedere meglio la vado a agganciare su questi pioli che ci sono arrivo alla lunghezza dove voglio la lunghezza che voglio il mio bracciolo per esempio facciamo 35 centimetri che sarebbero qui arrivo alla fine della spugnetta e proprio alla fine della spugnetta vado a tagliare il mio bracciolo vado a prendere gli ami per quanto riguarda gli ami utilizzo sempre gli stessi in serie 724 769 di sasana e vado a legare il mio amo allora leghiamo il mio amo ok una volta legato tagliamo l'eccedenza prendo la mia asola l'aggancio e mi vado ad agganciare l'amo ecco qua e ce l'ho ben preciso chiaramente prendiamo il secondo adesso io li sto facendo uno uno sennò certe volte per anche velocizzare il tutto ne prendo 34 li aggancio sui pioli li aggancio mi calco la lunghezza in questo caso 35 a fine della spugnetta taglio taglio a fine della spugnetta perché perché semplicemente c'ho la lunghezza che è andato a legare il mio amo mi mancherà un centimetro quindi riesco a agganciarlo tranquillamente l'unica cosa che voglio specificare che questo sistema di tagliarlo solamente a fine spugnetta funziona se andiamo utilizzare ami a occhiello se utilizzo invece ami a paletta chiaramente utilizziamo più filo per legarli e quindi dobbiamo farli un po più lunghi sbagliamo l'incidenza agganciamo eccolo qua anche questo è ben preciso qui semplicemente qual è il vantaggio di utilizzare questi braccioli sganciorabili la velocità durante la zona di pesca per intercambiarli per fare tantissime prove se voglio fare la prova bracciolo più lungo più corto lo posso fare tranquillamente quindi una volta che mi vado a sistemare tutti i miei ami quindi qua ne vanno 80 ami ne vanno qui dentro quindi diciamo a voi per esempio io una volta che riempio questo ci faccio tutta la stagione infatti per quanto riguarda travi le travi ne faremo una decina al massimo e stiamo bene per tutta la stagione perché tanto la trave noi la recuperiamo sempre quello che cambiamo molto spesso è il bracciolo una volta che finisco l'azione di pesca tolgo i braccioli ma la trave mi rimane sempre intatta quelli che vengono utilizzati più spesso vengono cambiati più spesso sono i nostri braccioli quindi questo è il metodo che avete visto quando vado io a pescare a bollentino con gli sganciorabili questo è un affarino secondo me che chi fa bollentino non può mancare è molto utile pratico e ci facilita tanto la zona di pesca e niente ragazzi per questo video è tutto io vi ringrazio ancora una volta vi chiedo unica cosa vi chiedo di mettere un bel mi piace e seguirmi sia sul tuo network instagram che qui su youtube e noi come sempre ci vediamo un prossimo video ciao